Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 per lavori un chilometro di coda in entrambe le direzioni tra Carrara e Massa. Sulla A1 fare attenzione per vento forte segnalato sul tratto appenninico tra Aglio e Rioveggio. Su raccordo autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Su raccordo Siena-Bettolle per lavori restringimento di carreggiata all'altezza di Castelnuovo Berardenga chiuso in entrata e uscita lo svincolo di colonna del Grillo in direzione Siena. Chiudiamo con i traghetti a causa delle condizioni meteo potrebbero esserci cancellazioni nei collegamenti con le isole. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.